ciao a tutti amici di youtube benvenuti e bentornati sul mio canale allora andiamo avanti con l'attaccamento degli adesivi quindi oggi come avrete capito attaccherò l'adesivo lì nell'angolo sperando che ci stia è sempre allora l'adesivo murale è quello di aliexpress ed è questo qua qui ho l'immagine di riferimento che vi faccio anche vedere come vedete nell'immagine parte da un angolo inferiore del muro e invece io lo voglio far partire da sopra allora a differenza di quello che ho attaccato in nella postazione computer ovviamente questo è decinesi questo è proprio un adesivo quindi non è non so neanche come spiegarvelo cioè è proprio un adesivo adesso adesso cercherò di capire come funziona allora intanto partiamo dalla a tra l'altro è sì ok se li comprate in negozio secondo me è meglio è però questo è proprio da staccare così sperando che non si rompa ok lo ha staccato adesso proverò ad attaccarlo sul mio muro ce la farò non ce la farò sono troppo lontana ok ci ho messo 8 minuti va bene per attaccare la prima parte di adesivo murale e come immaginavo non ci starà tutto c'è già quello mi occupa tutta la parte dell'angolo lo faccio vedere più da vicino come vedete praticamente ha già preso tutto il suo spazio quindi una cosa che non ho preso è la paletta quella dell'altro adesivo murale che adesso vado a recuperare per stenderlo bene comunque io e la maglietta di me o qua che tra l'altro così nel frattempo vi faccio anche vedere indossata adesso vediamo se riesco ad attaccare il resto allora sicuramente l'altro ramo non ci sta a meno che non lo attacco in così e lo faccio partire tipo da sopra oppure lo posso attaccare nell'altro angolo perché così non mi vedete lo posso attaccare nell'altro angolo comunque io direi che intanto attacco queste farfalle no la farfalla grande la farfalla grande e la farfalla piccola e qualche fiorellino così allora la cosa buona è che lì sopra sicuramente i miei figli non ci andranno a mettere le mani la cosa meno buona è che speriamo che duri e rimanga attaccato almeno finché non mi stufo perché è veramente di una qualità molto molto bassa però cioè sono sicura che quelli che ho in salotto sia quello sopra il divano con il soffione e sia la scritta che ho attaccato nell'altro giorno sono sicura che quelli durano perché quelli sono quelli di Gisk quello attaccato sopra il divano ce l'ho attaccato da almeno tre anni se non di più e veramente durano tantissimo poi man mano vabbè avendo anche i gatti che ci vanno a giocare quelli si staccano però durano veramente tantissimo questo è proprio un adesivo è proprio un adesivo non è un adesivo murale che dici si appiccica al muro no è completamente diverso da quelli che ho acquistato finora adesso devo capire se ci aggiungerò adesso qualche fiorellino ah c'è un rametto di quelli piccolini qua sopra questo lo posso attaccare e adesso vediamo perché magari il ramo quello grande lo faccio partire da dietro il ritratto non sarebbe male come idea comunque nel frattempo adesso ci penso ci sto pensando eh ci sta aspettate che ok così lo vedete tutto adesso mi mancano tutte le farfalle allora questa è la farfalla più grande se io trovo il posto dove attaccare sta farfalla secondo me mi si risolve tutto ok amici di youtube l'ho attaccato adesso mi ci devo un attimo abituare perché i primi 20 minuti non sono mai soddisfatta del lavoro però vabbè nel frattempo ho scoperto che perde un sacco di colore tra l'altro questo adesivo ma va bene io non chiudo il video perché continuiamo ad attaccare adesivi murali perché facciamo l'altra parte ma non adesso quindi appena avrò il tempo di registrare anche l'attaccamento dell'altra parte così finiamo la camera da letto metterò insieme tutto il video e poi farò anche saluti finali intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo che cosa ne pensate di questo è la farfalla più grande che cosa ne pensate di questo è la farfalla più grande